È tempo di inizi in casa CSI, anche per il campionato provinciale di pallavolo appena cominciato. Sono 349 le squadre che gareggeranno quest'anno da tutta la provincia. Così come per il calcio, anche la stagione della pallavolo si è aperta all'insegna di un tren positivo. Il numero degli iscritti è aumentato rispetto allo scorso anno. Nella precedente stagione, infatti, le squadre iscritte erano 331. La categoria che quest'anno ha registrato uno slancio maggiore è stata quella delle mini allieve, con 98 squadre contro le 72 dello scorso anno. Tra le società sportive che hanno inaugurato la nuova stagione del volley targato CSI c'è quella dell'oratorio di Stezzano. In passato abbiamo raggiunto anche dei buoni risultati con la federazione. Abbiamo fatto una C, abbiamo vinto due campionati come CSI, come allievi e allieve. Ci siamo sempre divertiti, ecco. Purtroppo mancano i volontari, perché la società è basata tutto su volontari. Gli allieve dell'oratorio di Stezzano si sono aggiudicate la prima partita del campionato contro l'oratorio San Tommaso. Dopo un primo set partito in Sordina, le stezzanesi hanno sconfitto le avversarie con un risultato di 3 a 0. La società non è vecchissima, diciamo che ha 10 anni di vita e nella sezione pallavolo conta circa una sessantina di atleti, mentre abbiamo anche la sezione calcio e la sezione danza. Nella sezione calcio sono circa 140 iscritti e nella sezione danza sono tre gruppi da 20 ragazzine ciascuna.